Se assaggi i prodotti di panetteria fortunato non potrai più farne a meno. Ti aspettiamo in via San Clemente 176 a Nocera Superiore, nei pressi della stazione ferroviaria. Una nuova bufera si abbatte sulla Commissione Tributaria di Salerno. Infatti nelle scorse ore c'è stato un nuovo sviluppo delle indagini che lo scorso 15 maggio avevano già portato all'arresto di 14 persone. La Guardia di Finanza di Salerno, su ordine della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di sette indagati per corruzione in atti giudiziari. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di pubblici ufficiali ed imprenditori. Fondamentali anche le informazioni ricevute dai precedenti indagati finiti in manette, che durante gli interrogatori hanno ammesso le proprie responsabilità in relazione ad alcuni episodi di corruzione, fornendo notizie anche su altri indagati e su episodi analoghi. I riscontri hanno così permesso di risalire ad altre dieci sentenze di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale Sezione di Staccata di Salerno, che sarebbero state pilotate a favore di privati in cambio di denaro. Grazie alle nuove indagini salirebbero dunque a 20 il numero di provvedimenti fasulli a partire dal 2016 al maggio di quest'anno. Sempre lo stesso il risultato, far vincere il ricorso al contribuente in cambio di soldi. Tra i capi di accusa provvisori, per i quali il GIP ha ravvisato la presenza di gravi indizi di colpevolezza, vi sono la cancellazione di un debito con l'erario di oltre 35 milioni di euro ottenuto da una società di Sarno. Per un'altra impresa di Angri, l'indebito vandaggio ottenuto supererebbe i 5 milioni di euro. Per una terza società di Avellino, invece, la somma contestata dal fisco ed annullata dai giudici raggiungerebbe il milione di euro. Tra gli indagati, un professionista di Avellino che, dopo aver ricoperto per anni l'incarico di giudice tributario a Salerno, da settembre 2018 fa parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il massimo organismo di autogoverno dei giudici tributari a livello nazionale. A quest'ultimo viene contestato il concorso in 5 episodi di corruzione in atti giudiziari. Reati commessi non nella qualità di giudice tributario né di quella di consigliere, ma quale intermediario corruttore, che agiva valendosi della conoscenza diretta del personale amministrativo e dei giudici tributari di Salerno. Tra gli arrestati vi sono anche un giudice tributario non togato, un segretario della Commissione Tributaria Provinciale, un produttore televisivo della Vellinese, altri quattro tra imprenditori e commercialisti della provincia di Salerno.